Arriva una mini stangata per il comparto turistico nei comuni con presenze di viaggiatori che superano 20 volte il numero dei residenti. Potranno infatti aumentare la tassa di soggiorno sui turisti fino a 10 euro al giorno, un raddoppio della tassa che attualmente può essere al massimo di 5 euro, e una modifica approvata al decreto fiscale alla Camera dei Deputati. Per i paletti posti l'aumento non riguarderebbe i turisti in visita in città come Milano e Roma, ma quelli di località turistiche comunque conosciute in tutto il mondo, come Sorrento, Iesolo, Cortina e Ischia, e città d'arte come Venezia e Firenze. Attualmente sono 1.020 i comuni italiani che applicano l'imposta di soggiorno per un gettito complessivo di circa 600 milioni. Sono appena il 13% dei comuni lungo la penisola, ma rappresentano il 75% dei pernottamenti turistici ogni anno in Italia. Da una modifica approvata gli emendamenti pronti ad essere inseriti nella manovra fiscale. Compare così l'eco bonus sui riubinetti del 65% sulla spesa documentata. In pratica per quegli acquisti di rubinetteria sanitaria, con portata di erogazioni uguale o inferiore a 6 litri al minuto, soffioni doccia con una portata uguale o inferiore a 9 litri al minuto e cassette di scarico con una portata uguale o inferiore a 4 litri. L'emendamento non ancora approvato parla degli acquisti nei prossimi due anni. Dietro front poi per il bonus verde. Tolto inizialmente dalla manovra potrebbe rientrare con agevolazioni fiscali per la sistemazione di giardini ed aree verdi. Novità potrebbero esserci anche per il bonus facciata dei palazzi, che prevede l'abbattimento fiscale del 90% della spesa, ma il tetto massimo della stessa spesa potrebbe aumentare da 96.000 a 192.000 euro.